Ieri il Governo, il Partito Democratico e la maggioranza hanno bocciato l'emendamento della Lega in Commissione Bilancio sulla legge di stabilità per cancellare e azzerare definitivamente il pedaggio delle tangenziali di Como e di Varese. L'emendamento proposto dalla Lega per rendere gratuito l'odioso balzello è stato miseramente bocciato dal Partito Democratico. I Comaschi e i Varesini da oggi pagheranno purtroppo il pedaggio per due chilometri e mezzo di tangenziale, una tangenziale monca che non è ancora stata completata. I Comaschi devono sapere che la responsabilità di questo ulteriore balzello ricade solo e unicamente sulle spalle del Partito Democratico. Ieri questo balzello poteva essere definitivamente tolto accogliendo l'emendamento della Lega, purtroppo ciò non è avvenuto. Da oggi i Comaschi dovranno bussare alla porta degli esponenti del Partito Democratico e mi chiedo, il sindaco di Como, il presidente della provincia di Como, il sindaco di Albese, promotore del comitato no pedaggio, tutti esponenti del Partito Democratico dove siano stati in questi giorni. Una battaglia che la Lega ha fatto con orgoglio e con dignità a difesa della dignità e della libertà dei cittadini Comaschi e Varesini.